Ciao a tutti ragazzi, è venuto in questo nuovo video. Oggi ho preso, ho usato questo, perché mio papà si è zappo. E poi queste penne che chi ha dato se è zappo. Ma oggi c'è nato questa. Sì, sì, vai, in Italia deve fare una cipolla. Poi questo, che sei rubato, dichiara. Poi si vuole. Questo è mio, 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 mio. Guarda come fai. Ma questo è mio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è questa sorella che lui mi fa arrabbiare. Adesso sarò qui a vedere il video di mio fratello. Guardate, mi piace. Allora, che cosa devi fare nel video? Questo qua è il mio po' che è un salvato. Ma hai detto tu chi sei? Io sono Chiara Santillo, tu e lui sei Salvatore Santillo. Abbiamo pure un chiale che si chiama Zacco, una madre che si chiama mamà. E' un padre che si chiama. Io a petto ho rubato questo a papà. Perché lui se... No, 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 possiamo. Se non se rabbia. Scusate per l'emozione. Abbiamo tantissimi penne qua. Scusate per l'emozione. Anche un topeo a forma di collare. Allora, ragazzi. E' un... Salvatore, hai detto quanti anni hai? Lui ha quattro anni, io ho otto anni. Sono un pochino più grande. Io mi ha dato tutto. Io mi ha dato tutto. Lui mi ha dato tutto. Perché vuole diventare... Forte. E devi dire restate a casa. Hasta a casa. Hasta a casa, restate a casa. Fai così. Aspetta. Così. Metti due. Così. Ecco. Questo così. Bravo. Hasta a casa. Bravo. Mettilo qui. Mettilo così. Bravo, hai fatto bene. Dai. Hasta a casa. Restate a casa. Dici? Fisciate a casa. Perché sta il coronavirus. Dici perché sta il coronavirus. C'è il coronavirus. Ma non mi dice quella cosa dice. Hai fatto vedere tutta? No. Sono una penna di Spider-Man. Ma non è di Spider-Man. Eh sì. Questa è la mia. Poi tattissimi peni. Siamo fatte. Se io vado a prendere i giocatori. No. Poi un mazzettino di papà. No. Poi una catena. La catena. No. Questa si chiama catena. Chiara i compiti. Chiara i compiti. Perché sì ragazzi. Dovete fare i compiti. Fisci lezione. Dici? Devi fare i compiti. Io li faccio. Aspetta ti voglio dire una cosa. Io faccio i numeri. Mamma. Io te ne ho detto. Ho fatto i numeri. Io ne ho chiudere i numeri. Salvatore fra poco. Devi finire. Sì? Ok. Sto facendo. Dopo devi dire ciao a tutti. Ciao. Salvatore fra poco chiudi. No no. Non chiudere. Ok ragazzi. Mi sono bloccata. Tadà. E tu mi vuoi bene. Vero? E non riesco a passare. È vero che tu mi fai. Mamma mia. E io faccio. Faccio il diso. E lo vuoi togliere? No no. Questa qua non ci tocca. No no. Ti voglio. Ti voglio. Ti voglio. Ti voglio fare vedere anche quello io. Ah no. Scusami. Ho un sacro. Una cartola così di gatto. No. No 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 no. Questa cosa. Però è di Chiara. Queste qua sono tutte di Chiara. No questa qua. No. No Sabato non è zirocca. Ti prego. Ti voglio fare. Ha tutta cosa di mamma. No si prego dammi questo. Se no mamma si è rabbia. Stai a casa. Ragazzi stai facendo a mia mamma. Quindi dobbiamo chiudere. Io non voglio farlo. Ho finito. Ciao. 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 Ciao.